Ben tornati in questo nuovissimo video Allora raga ho fatto un botto C'è un botto di miglioramenti Infatti sono arrivato Anche in municipio 4 Perché ero mazzato al massimo Allora raga come potete vedere Il mio villaggio Lo ricopero quello di Yaki d'Alema Perché mi piace un botto Come potete vedere Mi sto facendo adesso La difesa aerea E l'amino d'oro E poi basta Scusate che non ho fatto il video Dovevo fare il municipio 4 Ma non avevo tempo E qui sto migliorando Un bel po' di cose Questa ce la portiamo al 4 Ce la dobbiamo portare E poi guardate quale gemme 400 e 5 gemme Abbiamo l'attacco Intanto mettiamo un altro attacco Da fare E boom Raga Ci dobbiamo potenziare Il laboratorio Poi farci Gli arcieli Stoccarsi al 2 No gli arcieli no Uno di giganti E spaccamori E basta Cava Cava 11 E dal vivo Se lo chiamo Cava Aspetta Perché stavo attaccando Una merda A per esempio Questa è quella di più Ad esempio Mhmm Mamma 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 Cosa è Cosa Guardate Adesso questo Gli faccio il culo Forte Perché attaccate le mura Io voglio salutare Francesco e un amico mio Facciamo un po' di già che c'è l'asma Sono salutato e non lo potrò notare Allora guardate E ragazzi quando facciamo il 3 stella almeno Lo facciamo un po' di meno Meno male che ho fatto il 3 stella almeno Andate barbari Barbari andate Staccate il culo con l'astatore Non sarà di sicuro un tristellamento Con una minchia di barbari Però dai E niente dai Fondiamo questo attacco bellissimo No dai Di me stanno Perché abbiamo tante risorse Tante risorse Allora se volete entrare nel clan Io vi spello Allora adesso ci fanno Questa Che ce la dobbiamo portare Come tutte 5 Come tutte le altre Casermine Casermine Qua gli ostacoli Oh vedi chi c'è qua L'amichetta mia E questa qui Vabbè ci vuol stare Sì Aspetta Fatemi parla piano Ho levato un botto gli ostacoli Guardate Di 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 Poi me lo fanno Tutte i muran Al tre Perché già E poi tutta il quattro Con le Allora Rega con 125.000 Mi faccio Queste muran due Tutte Non è vero Sì sì Tutte queste muran due Tutte Allora E' grande Guarda Allora E facciamo Niente Qui abbiamo perso Ah rega Ho sbloccato Anche il secondo Villaggino Eccolo qui Guarda che schifo Andiamo a fare Una bella Battaglia Lo facciamo Per Per di Blasi Dai Lo facciamo Anzi no Per Barbara D'Urso Sì 시berta Non è vero Non è vero Eccolo Non è vero Non è vero Lì Ma Guarda Non è vero 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 Questa cosa It's time to do Yeeen ho vinto perché ho vinto non me la dai mai che ci fanno accampamento oh no oh questo che ci fanno ci fanno questo vai mettiamolo in culo andiamo a vedere ci sono intanto che ci penso che cazzo facciamo non so tutto fatto al massimo ce n'è vero se riuscimo facciamo un altro attenzione qua dai lo mettiamo in culo quel canone barba e d'ustano è troppo troppo schifoso è un po' zutano dai dai stiamo facendo direi dobbiamo fare la raba ma questa raba è un po' zutano il piede bro mi sono facendo tutte cose a caso non so perché guarda il mortaggio che ho perso voglio di costruttori qua sopra questo è soridente dopo al massimo invece andata andiamo a vedere quella con il carbone e l'altro è rimasto male per tutta la vita dai perché è schifo l'ultimo attacco e se lo chiamo barbara sicuramente 100 per cento per cento per cento per cento ok mentre si fa il mio coso vi dico iscrivetevi nel mio canale e ci vediamo e lasciate cinque like condividete il video a tutti i vostri amici e noi ci vediamo al prossimo video ciao